bentornati su sul mio canale youtube oggi vediamo adesso vediamo un attimo cosa scegliere la domanda che più frequentemente mi avete fatto sui social è xt2 o x pro 2 xt2 o x pro 2 allora voglio farvi vedere una cosa un secondo che vado a prendere un obiettivo qua nell'ermadietto montiamo un attimo il 90 mm sulla x pro 2 per avere su tutte le macchine un obiettivo montato allora sono due macchine simili si sono due macchine uguali no quale scegliere non c'è una risposta assoluta dipende da cosa devi fare ricordate che questo è il mio parere non non è la risposta assoluta alle vostre domande non lo sarà sicuramente vi posso dire però un'opinione utilizzando queste due macchine ormai da diversi mesi sempre continuamente la mia scelta ricade più spesso sulla xt2 rispetto alla x pro 2 ma perché questo perché questa al batteri grip e per il tipo di lavoro che faccio io mi fa una cosa che mi fa molto comodo fa molto comodo avere la possibilità di inserire tre batterie contemporaneamente senza avere il pensiero di dover cambiare la batteria cosa che invece capita ovviamente più spesso con la x pro 2 questo è ancora un po vogliamo chiamarlo limite no non lo chiamerei limite perché ormai non è più un limite stiamo parlando comunque di 400 scatti circa dalla mia esperienza molti meno per per l'esperienza di altri dipende dalle impostazioni che avete sulla vostra macchina fotografica dal punto di vista di qualità file io mi sento di dire che se ci sono delle differenze non sono percettibili all'occhio umano mentre posso invece dire che dal punto di vista autofocus qua soprattutto in modalità boost quindi col batteri grip e modalità boost si vede una differenza sia nell'autofocus che nella ovviamente frequenza di scatto continuo ok questa non è pensata per quel tipo di lavoro non è sviluppata per quel tipo di lavoro sono due macchine fotografiche con due target diversi mentre invece mi sono accorto che quando viaggio quando vado in giro quando ho bisogno di un corpo macchina con un obiettivo montato da tenere al collo la mia scelta ricade molto più spesso sulla x pro 2 poi è diciamo rimane a vostra discrezione a vostro gusto se scegliere range thunder quindi un mirino sia analogico che digitale comunque ibrido in effetti questo è un mirino analogico con un'interfaccia digitale all'interno oppure può diventare completamente un mirino elettronico come nella xt2 però se vi piace lo stile per capirsi laica allora questa è la macchina che fa per voi lavorando i raw e jpeg lavorando diciamo in post produzione i raw delle due macchine fotografiche non si notano differenze neanche nel jpeg ho fatto anche post produzione abbastanza avanzate spinte non ho riscontrato nessun problema i 24 megapixel fanno il loro dovere era sicuramente quello che mancava rispetto alla xt1 dove i 16 megapixel sicuramente limitavano molto il lavoro dei professionisti qua abbiamo superato ampiamente questo problema che posso dirvi di altro sicuramente troverete una differenza di interfaccia posteriore quindi fisica dei pulsanti a disposizione dei pulsanti ma sono piccole differenze ci sono sono piccole differenze quindi quello che mi capita ogni tanto è di prendere in mano l'una o l'altra macchina e confondermi con diciamo dove dove si trova il pulsante che fa quella cosa che sto cercando le impostazioni dei pulsanti rapidi le impostazioni rapide dei pulsanti non sono impostabili allo stesso modo di qui e di là anche se sono piccole differenze ma ci sono direi che indicativamente queste macchine sono talmente simili dal punto di vista del file che producono che la scelta ricade soprattutto sul tipo di lavoro che dovete farci se dovete fare sport o video ovviamente giustamente mi sono dimenticato l'aspetto video sicuramente la xt2 è una macchina dedicata anche al video e lo fa in maniera più che degna diciamo fa molto bene mi piace molto il video che fa questa xt2 qua ci sono dei limiti non avete 4k non avete il d log se ne avete bisogno quindi la possibilità di registrare su hard disk esterno un file piatto in maniera parole povere da poter post produrre con il color grading in post produzione c'è un file in hd degno decente niente di spettacolare quindi ha sicuramente dei limiti video se siete interessati al video la vostra scelta deve ricadere qua non necessariamente col batteri grip ma riscontrerete che in batteri grip purtroppo fa la sua differenza su questo corpo macchina una volta che ce l'avete non potete più farne a meno anche se io la uso molto anche senza batteri grip soprattutto quando viaggio basta direi che la i pro i contro le differenze variano finiscono qua non non è sicuramente una questione di qualità di tipologia ma piuttosto appunto della destinazione d'uso della vostra attrezzatura spero di essere stato utile con questo breve video comparativo e ci vediamo presto ricordatevi che potete iscrivervi al canale mettere mi piace sulla pagina trovate tutte i link qui in descrizione sotto oppure scrivete qui nei commenti se avete domande e se volete sapere insomma io ci sono sono a disposizione ciao belli